I sindacati temono che una compagnia ridimensionata non possa reggere il confronto con la concorrenza internazionale in mezzo alla tempesta covid che si è abbattuta sul trasporto aereo. Il 18 giugno sarà sciopero nazionale di tutto il settore. Diventa urgentissimo un incontro tra tutte le parti soprattutto coinvolgendo il sindacato e i lavoratori sul futuro dell'Italia. Non si può pensare che l'Europa detti per l'ennesima volta le linee di pulita industriale italiana.